ai nostri docenti, ai nostri soci di Unventerio, non condatori ma sono stati tra i miei iscritti e hanno seguito. Lei la Savarese ci sta? Vera Ceccarelli, sì? Pasquale Cimino? Ci sta. Un attestato di merito per la tua... ormai sei un asino che non sei mai promosso, sono 20 anni che non finisci. Non riesci a laurearti. Angelo De Peo. Vittorino, Vittorino Ferrano c'è? Ecco, è lui. Tenace, non ci lasci. Un servizio alla cittadinanza. Anna Maria Desposito. C'è. C'è. C'è Anna Maria. Anna Maria, la prima collaboratrice perché non ha voluto fare la coordinatrice. Salvatore Vennillo, un altro tenace. Domenico Regananti, domenico Regananti? Sì, non ci stai. Ok, fermiamo qui. Io tengo una targa per l'Avvocato Nino, del quale ho apprezzato moltissimo il suo discorso. perché c'è stato molto... Allora, un applauso... Ecco, mettetevi in modo... C'è Avvocato Nino, del quale ho apprezzato... C'è Avvocato Nino, del quale ho apprezzato... No. La macinina... Ci sono fatti. Eh, la faccia... Perché non fa le scopi?